Un incontro con gli studenti sul pianeta Galileo, ora questi studenti hanno visto degli elaborati, va bene, degli autori e li hanno a loro volta elaborati, ma cosa è venuto fuori? È venuto fuori un colloquio, diciamo, come viene sempre con i ragazzi e questo colloquio a meno a mia vita è stato molto produttivo, produttivo dal loro punto di vista e dal mio punto di vista si apprende sempre le ragazze e si vede, diciamo, i germi della loro creatività che, diciamo, riempono gente come noi di grande speranza. Che cosa interessa ai ragazzi in particolare della scienza? Beh, la scienza interessa quando è presentata nella maniera opportuna perché la scienza è la base del ragionamento, la base della creatività e in loro stuzzica, diciamo, questa è la parola, la curiosità, il domani quello che farò domani, stuzzica il pensiero, la mente e l'anima. Da questi ragazzi verranno fuori degli scienziati? Eh, questo non lo so, in questo paese dove la scienza è un po' così trascurata io me lo auguro caldamente. Grazie. Grazie. Grazie.